La consulta bolla come costituzionalmente illegittimo il decreto fiscale varato a dicembre dell'anno scorso, convertito poi nella legge 215 del dicembre 2021, nella parte in cui all'articolo 16.7 stabiliva l'improcedibilità delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025. La Corte, presieduta da Silvana Sciarra, ha dichiarato incostituzionale un articolo della legge misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro, accogliendo pienamente la tesi proposta e discussa dagli avvocati Paolini e Borraccino e rappresentanza del creditore privato. In particolare la Corte ha ritenuto violati quattro articoli della Costituzione per il mancato rispetto dei criteri di proporzionalità nelle misure a tutela dei bilanci dello Stato di uguaglianza nel giusto processo e della tutela della salute. L'Associazione Coordinamento ospedalità privata esprime soddisfazione per quanto stabilito dalla Corte nella sentenza relativa al blocco delle azioni esecutive e un monito al Parlamento, dicono, dal momento che il legislatore aveva reiterato in maniera identica anche nelle virgole una norma già dichiarata incostituzionale dalla consulta per ben due volte. Un auspicio quindi che il Parlamento, appena insediato, si nutre rispetto per i diritti dei cittadini, continua l'Avvocato Paolini, tutelandoli nei confronti delle vessazioni della pubblica amministrazione e del legislatore. Grande soddisfazione anche per l'On. Michele Vietti, Presidente dell'ACOP. Con questa decisione, dice, il giudice delle leggi si conferma garante del rispetto delle regole del sistema Paese e del buon funzionamento dell'ordinamento giudiziario.